Al CRIT Networking Day 2018 parliamo dell'impatto delle nuove tecnologie sulla complessità aziendale con Massimo Pedertoli, Key Account Manager di QUICS. Che cos'è per voi la Digital Transformation e che riferimenti particolari avete nella vostra esperienza? Per noi la Digital Transformation è un percorso, è un percorso quando noi andiamo da un cliente e iniziamo un progetto di Digital Transformation per noi è un percorso che si vede per mano col cliente perché un qualsiasi progetto di Digital Transformation deve essere un percorso che deve coinvolgere tutti gli stakeholder interessati partendo dal basso e arrivando all'alto, un buon progetto può essere un ottimo progetto di Digital Transformation ma se non è vissuto bene da tutte le persone coinvolte rischia di fallire o di non funzionare nel modo eccellente. Per cui meglio un progetto con meno tecnologia ma se condiviso da tutti gli stakeholder tutti si sentono partecipi al progetto e sicuramente sarà un progetto che darà ottimi risultati. Grazie a tutti!